ciao ragazzi bentornati su top prodotti recensioni prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video oggi andremo a vedere i migliori ventilatori da tavolo per rinfrescarvi durante l'estate in quinta posizione troviamo il ventilatore da tavolo polar 2021 color bronzo ventilatore con le tre classiche velocità più una modalità super wind per avere ancora più freschezza dotato di un motore silenzioso ad alta tecnologia per rinfrescare l'ambiente in maniera silenziosa e rilassante fornito con un cavo usb da 1,5 metri che può essere collegato a televisori computer o altri dispositivi o direttamente alla presa trovate il link in descrizione in quarta posizione troviamo il ventilatore da tavolo occupa disponibile in tre diversi colori alimentato tramite usb per collegarlo in qualsiasi posto della casa e rinfrescarvi grazie al potente motore più forte e potente dei normali motori ma molto silenzioso per non disturbare chi lo utilizza ventilatore con due velocità regolabili per adeguarsi alle vostre esigenze con base robusta grazie alle quattro gomme sul fondo del piedistallo per una maggiore sicurezza e durata in terza posizione troviamo il mini ventilatore da tavolo pro breeze con pinza per attaccarlo al letto scrivania ante di armadio ovunque vi venga comodo girevole a 360 gradi con supporto completamente regolabile inclinabile di 100 gradi per controllare in maniera semplice il flusso d'uscita d'aria due impostazioni di velocità ad alta e bassa potenza per essere pronti anche nei giorni più caldi ventilatore leggero e silenzioso trovate il link in descrizione in seconda posizione troviamo il ventilatore da tavolo arde sisi 40 disponibile in molteplici varianti con il diametro delle pale che va dai 20 centimetri fino ai 50 centimetri lo potrete trovare con base da tavolo tonda o a croce per andare incontro ad ogni vostra esigenza oscillazione laterale automatica basta attivarla dal pulsante per rifrescare al meglio l'ambiente con tre velocità silenzioso e facile da montare ideale per ogni stanza in prima posizione troviamo il ventilatore roventa silence extreme super silenzioso e potente con i suoi 70 watt 5 pale per far girare al meglio l'aria con 4 velocità regolabili più una modalità turbo boost per far fronte anche al caldo più forte ventilatore utilizzabile anche di notte grazie alla funzione apposita che vi evita di lasciarlo accesso per molte ore quando non serve ideale in ogni stanza trovate il link in descrizione per maggiori informazioni bene ragazzi anche per oggi è tutto vi ricordo che trovate tutti i link degli articoli in descrizione se siete interessati grazie per aver visto tutto il video ci vediamo al prossimo ciao